Ehi ragazzi, bentornati sul mio canale. Siete pronti a sconfiggere le temute prove invalsi di matematica? Io sono qui, come sempre per voi, con una soluzione che renderà tutto più facile e divertente. Sappiamo quanto le prove possono essere stressanti ed è per questo che vi do una bella notizia. Sul mio canale YouTube trovate il kit di sopravvivenza alle invalsi. Se questo è il primo video che guardate, vi invito ad andare nella playlist prove invalsi di seconda superiore, così troverete tutte le lezioni chiare, i trucchetti e le strategie per affrontare con grinta e sicurezza questa sfida. Se avete visto invece già tutti i video precedenti, complimenti perché oggi continuiamo con la domanda numero 13 di questo test. La seguente figura è composta da 13 quadrati tutti gli lato 1. Se il lato di ciascun quadrato si dimenza, allora la superficie della figura diventa molto semplice. Dobbiamo calcolare l'area di questa figura e la possiamo calcolare come la somma delle aree di tutti i singoli quadrati. L'area di un quadrato, vi ricordo che si trova facendo lato alla seconda, quindi 1 alla seconda fa un centimetro quadrato. Ho 13 quadrati in tutto, quindi l'area di questa figura è 13 per l'area di un quadrato, quindi 13 centimetri quadrati. Ora se dimettiamo il lato, vuol dire che il lato non è più lungo un centimetro ma mezzo centimetro, ovvero un mezzo. Quindi l'area del nuovo quadrato è un mezzo alla seconda, un quarto. L'area della figura pertanto si trova facendo l'area del quadrato per i 13 quadrati, 13 quarti, che calcolato con la calcolatrice corrisponde a 13 diviso 4, ovvero 3,25 centimetri quadrati. Semplice, no? Andiamo avanti. Considera l'equazione di questo tipo. Per quale valore di k rappresenta una retta che passa per il punto di coordinate 1,5? Parola magica passa per... Devo sostituire le coordinate del punto al posto di x, y. Ti tratta di risolvere quindi questa equazione nell'incognita k. Porto il terminato di là, cambiando di segno. 5 meno 2, 3. Il valore di k cercato è proprio 3. Una casa editrice propone all'autore di un libro di scegliere uno tra due diversi tipi di contratto relativi al suo compenso. Contratto perfettario, compenso di 50.000 euro indipendentemente dal numero di copie vendute. Contratto a partecipazione, compenso di 5.000 euro a cui si aggiunge il 10% del prezzo di copertina per ogni copia venduta. Il prezzo di copertina del libro è 30 euro. L'autore scende il contratto a partecipazione. Compete la tabella. Per completare correttamente questa tabella, facciamo un piccolo schemino. Noi sappiamo che il prezzo di copertina del libro è di 30 euro e con il contratto a partecipazione il compenso si trova in questo modo. È uguale a 5.000 euro più si deve aggiungere il 10% del prezzo di copertina per ogni copia venduta. Se chiamiamo con n la copia venduta, questa frase in termini matematici si scrive come 0,10 corrisponde al 10% per i 30 euro del libro per n. Quindi la formula per calcolare il compenso si trova facendo 5.000 più 3 per n. Dove n è il numero di copie. Ora se n è uguale a 0 vediamo subito che il compenso è 5.000. Se n è uguale a nulla devo fare 1.000 per 3 che fa 3.000 quindi non c'è nemmeno bisogno di usare la calcolatrice. 3.000 più 5.000 fa 8.000. Infine se il numero di copie è 2.000. 2.000 per 3 fa 6.000 più 5.000 il compenso è 11.000. Questa era la risposta. Andiamo avanti. Siamo di nuovo alla stessa domanda. Questa volta ci chiede completa la formula che esprimi il compenso dell'autore in funzione del numero di copie vendute nel caso di contratto a partecipazione. Qui siamo avvantaggiati perché avevamo già trovato la formula per poter completare la tabella e quindi la andiamo a scrivere qui. Andiamo alla prossima domanda e l'ultima è questa finza sulla casa editrice sulle copie del libro. Qual è il numero di copie che devono essere vendute perché il compenso ottenuto con il contratto a partecipazione sia uguale a quello ottenuto con il contratto forfettario? Allora il contratto forfettario mi dice che il compenso è di 50.000 euro a prescindere davanti ai copie vendute. Quindi si tratta di uguagliare la mia formula a 50.000 euro e trovare l'incognita N. Ovviamente non c'è bisogno che vi spiego tutti i passaggi, è un'equazione di primo grado, porto il termine noto al secondo membro ricordandomi di cambiare di segno, divido a destra e a sinistra per 3 e 45.000 diviso 3 fa 15.000. Il numero di copie che devo vendere affinché il compenso ottenuto con il contratto a partecipazione sia identico a quello ottenuto con il contratto forfettario è 15.000. Ultima domanda per oggi. ABC è un triangolo rettangolo di ipotenusa BC. O è il centro della circonferenza iscritta nel triangolo. Si vuole dimostrare che l'ampiezza dell'angolo BOC è 135 gradi. Completa il testo della dimostrazione scegliendo tra i seguenti termini e prestando attenzione al fatto che ogni termine può essere utilizzato una sola volta. Bene, il centro della circonferenza iscritta è il punto d'incontro delle bisettrici degli angoli interni del triangolo ABC. Gli angoli ACB, ovvero questo, e l'angolo ABC sono complementari. Infatti, io so che il triangolo è rettangolo, quindi l'angolo in A è 90. Poiché la somma degli angoli interni è 180, vuol dire che l'angolo in C più l'angolo in B deve fare 90. E questo, in geometria, si dice che i due angoli sono complementari. Continuiamo la frase, cioè la loro somma misura 90, perché sono angoli acuti di un triangolo rettangolo. Per quanto affermato in precedenza, la somma degli angoli OCB, cioè questo angolo EOBC, misura, la risposta è 45. Perché, se ci pensate, l'angolo in C si divide a metà dalla bisettrice. Quindi vuol dire che l'angolo in C possiamo scriverlo come due volte l'angolo OCB. Allo stesso modo, l'angolo in B divide a metà dalla bisettrice OB. Questo vuol dire che l'angolo in B lo possiamo scrivere come due volte OBC. Poiché sappiamo che la somma dell'angolo in C, quello in B, fa 90, andando a sostituire queste due relazioni, otteniamo questa riga. Divido al primo e secondo membro per 2 e ottengo quindi che OCB più OBC è 45. Quindi la somma di questi due angoli misura 45. Poiché la somma degli angoli interni di un triangolo misura 180. Possiamo concludere che BOC è 135. Infatti, se prendiamo la calcolatrice, basta fare 180, la somma degli angoli interni, meno, io so che l'angolo in C più l'angolo in B è 45, quindi meno 45. Trovo che l'angolo che stavo cercando, BOC, misura 135, che è appunto la tesi. Anche per oggi la nostra full immersion si conclude qua. Mi raccomando, non abbiate paura delle prove in valsi. Io, come sempre, vi chiedo di condividere con i vostri compagni di classe questi video o questa intera playlist sulle prove in valsi, perché insieme possiamo rendere la matematica più divertente. Iscrivetevi, mettete il vostro mitico like e preparatevi alla prossima lezione per trasformare la paura delle prove in valsi in una divertente sfida. Ti aspetto sul mio canale.